Oggi realizziamo insieme la ricetta tipica del mese di giugno, una rivisitazione della pasta alla norma con orecchiette pugliesi, pomodoro del pieno rodop a pacchetelle e melanzane siciliane. Realizzato un profumato soffritto di cipolla e aspettando che bulli l'acqua, versiamo i nostri pomodorini per realizzare il soggetto. I pomodorini del pieno sono caratterizzati da un sapore particolarmente dolce e un retrogusto acidulo dovuto alla alta concentrazione di sale minerali che contengono. Al bollire dell'acqua buttiamo le nostre orecchiette, realizzate con tecniche solo artigianali, con grano duro e acqua. Mentre attendiamo la cottura della pasta e facciamo bollire il pomodorino, tagliamo le melanzane a tocchetti. A pochi minuti dal completamento della cottura del pomodorino aggiungiamo le nostre melanzane siciliane, dal gusto ricco e molto corposo. Se vediamo che il nostro sughetto si asciuga, possiamo aggiungere un po' di acqua di cottura e a chi piace può aggiungere anche una bella fogliolina di basilico fresco. Ricordatevi di assaggiare il sale del sugo e di aggiungerne acqua se occorre. Cotte le orecchiette facciamole saltare insieme al sughetto. La loro porosità e la loro forma concava ne assorbirà tutto il sapore. Vi consiglio di ultimare l'ultimo minuto di cottura della pasta nella padella. La pasta La Norma è realizzata originariamente con le melanzane fritte, noi l'abbiamo realizzata un po' più light con le melanzane in olio extravergine di oliva.